Come ogni estate Marina, Michele, Emanuele e Paolo sono in partenza per la loro crociera estiva. Il primo problema è quello di far entrare tutto il bagaglio nella micra. Risolta la questione dopo qualche ora siamo in partenza per la baia di cavo. Approfittiamo delle otto ore di percorso per riposare. Quest'anno abbiamo una gradevole novità, Mustafa, il pilota automatico che rende i nostri trasferimenti molto piacevoli. Lasciamo la costa livornese, alziamo le vele e ci lasciamo a sinistra il faro di vada e dopo qualche ora passiamo sotto la bella Popolonia. Dopo otto ore di navigazione gettiamo l'ancora nella baia di cavo. Ci salutano i cabiani. Passata la notte in questo luogo a cui siamo molto legati, la mattina del 18 luglio inizia la nostra esplorazione dall'Elba a Giannutri. Grazie a tutti. 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 Andiamo come siamo venuti. Arrivederci fratello mare. Mi porto un po' della tua ghiaia, un po' del tuo sale azzurro, un po' della tua infinità e un pochino della tua luce e della tua infelicità. Grazie a tutti.